E' il momento del commiato carico di nostalgie ed emozioni. Dopo quasi cinque anni lasciano aggregento i comandanti della Guardia di Finanza e dei Carabinieri Vincenzo Raffo e Mario Di Julio. Entrambi trasferiti a Palermo dove andranno a ricoprire importanti incarichi nei comandi regionali. Prima di lasciare la città il saluto a Palazzo dei Giganti al sindaco Marco Zambuto. Abbiamo lavorato intensamente per il bene del territorio. Questo mi conforta perché lascio un reparto molto vivace che ha lavorato bene e continuo a farlo anche sotto la guida del mio successore. Qual è l'attività che l'ha maggiormente soddisfatta? Io forse anche per i miei trascorsi, oltre all'aspetto del contrasto all'evasione fiscale che ci compete in maniera primaria. Ma poi quello che più ho sempre preferito fare è quello di risanare il territorio dal fenomeno dell'uso di sostanze stuprofacenti che è un fenomeno a volte anche sottovalutato ma che mina le fondamenti delle famiglie. Mi resterà addosso, al di là di quello che ho fatto da Carabiniere, mi resterà addosso l'esperienza umana fatta con questa città e con questa terra perché in quattro anni mi sono trovato bene. Il rapporto con la gente è stato molto molto franco, molto aperto e molto leale. Qual è l'obiettivo che l'ha maggiormente gratificata? Due cose in particolare. Il forte incremento dell'attività operativa. Abbiamo quasi triplicato l'attività operativa rispetto agli anni che mi hanno preceduto e poi sicuramente l'arresto di Gerlandino Messina è stata sicuramente l'apice di questa attività, la ciliegina sulla torta se la vogliamo chiamare così. Alla guida della Guardia di Finanza di Egregento succede il campano Pasquale Porzio che conosce bene la realtà egregentina avendo finora diretto proprio qui il nucleo di polizia tributaria. Si potrebbe quindi definire un avvicendamento interno. Al comando provinciale dei Carabinieri è atteso invece Riccardo Sciuto. Proviene da Catania dove per tre anni ha diretto il reparto operativo. I prossimi saranno giorni ancora di saluti alle altre istituzioni e la stampa per Raffo e Di Julio che prima di andare via si rivolgono agli egregentini. Mi sento di dire a questa città di togliersi il vezzo, di piangersi addosso e di non denigrarsi sempre e continuamente. Ci sono tante cose belle che devono essere soltanto poste in luce e evidenziate perché di cose belle, di cose positive ad agrigento ce ne sono. Soltanto bisogna saperle farle notare in giro e farselo notare anche con se stessi. L'agrigentino deve prendere coscienza delle proprie forze, delle proprie capacità perché ne ha tante, ha delle risorse che vengono sottosviluppate e non utilizzate e qui c'è la possibilità di scommettere su se stessi e di non aspettare ancora l'intervento esterno perché se non ci risolviamo e ci aiutiamo da soli ancora continueremo a stare in questa situazione di non sviluppo economico che poi produce. Produce l'immigrazione dei nostri giovani e quindi il territorio rimane sempre in mano alle stesse persone che hanno le stesse idee e quindi il territorio non cambia. Il saluto della città a due uomini delle istituzioni che in questi anni hanno lavorato tantissimo per la nostra terra. Si è creato un rapporto tra le istituzioni estremamente proficuo in questi anni, anni nei quali sono stati catturati latitanti, sono stati assicurati al patrimonio dello Stato beni che prima erano delle attività malavitose e questo si è realizzato grazie a un'opera sinergica che vi è stata tra le forze dell'ordine ed è un sentito ringraziamento che io mi sento di fare al comandante De Giulio e al comandante Raffo proprio per il grande apporto che hanno dato alla nostra terra.